Ciao a tutti, volevo parlare in questo video della regina dei rimpianti. Chi è la regina dei rimpianti? La regina dei rimpianti è una donna, o perlomeno un tipo di donna, che si preclude la possibilità, ad esempio, di viversi l'innamoramento per mille motivi. Poi analizzeremo un attimino questi motivi. E poi dopo rimpiange il fatto di aver perduto delle occasioni. E quindi vive di rimpianti, fondamentalmente. E sono donne che vorrebbero vivere su una storia d'amore, ma poi hanno paura. Oppure, diciamo, ritengono che l'altra persona non sia adatta. Hanno una sorta di narcisismo perfezionista, per cui dicono, no, questo non va bene. E allora, come dire, inizialmente sono seduttive. Perché questo, diciamo, come dire, questo resistere, questo non essere convinte, attira. Inizialmente sono donne che si educano, perché, come dire, tendono a rifiutare. Per cui il maschio spesso si coinvolge proprio sul rifiuto, le persone che sono coinvolte sul rifiuto. Però, siccome non lo fanno per strategia, ma lo fanno per, come dire, perché spinte compulsivamente, diciamo, a fare questa cosa, non sanno gestire. E quindi eccedono. Non concedono mai nulla. Restano un po' rigide nelle loro decisioni. Ti dicono, eh, vabbè, quando puoi il tempo, magari una volta ci vediamo, ma sto tempo non viene mai. E allora il rifiuto è somministrato troppo a lungo e succede che dopo un po' la persona si cortocircuita. Perché la parte logica dell'altra persona, a un certo punto, prende il controllo della situazione e dice, che cazzo. Tanto la parte emotiva, comunque, alla fine si sgancia pure, perché il rifiuto diventa poi un'abitudine, diventa una spefazione. Se mangi sempre ravioli tutti i giorni, questi ravioli non ti fanno più effetto, no? Quindi il rifiuto va somministrato nel modo giusto. Se tu lo somministri di continuo, l'altra persona poi si sgancia. Si sgancia perché gliel'hai saturato tu, praticamente, non concedendo mai nulla. Invece ogni tanto concedi e poi risomministi il rifiuto, rimantieni viva la tensione. E quindi questo tipo di dono inizialmente coinvolge, poi dopo però decoinvolge. E quindi alla fine si ritrovano sole e rimpiangono. Rimpiangono di non aver fatto nulla. È proprio una tipologia specifica e ce ne sono diverse. È la regina dei rimpianti. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!